Allora, siamo in collegamento diretto sulla pagina Facebook del Comitato NRGD di Milano. Buonasera a tutti i partecipanti, buonasera a Matteo Canneletto, che tutti conoscono, che ha fatto recentemente, ha scritto un libro con Fausto Biloslavo, Verità in Foibate, e che ora si accinge ad un bel lavoro nuovo, importantissimo, molto importante, sul Goliotoc, l'Isola degli Orrori. Abbiamo con noi questa sera Walter Lazzari, ospite inaspettato, ma molto gradito, presidente della NRGD di Savona, e come sempre il nostro Matteo Gerghetta, che è in sede. Questa sera abbiamo anche l'onore, il piacere, di vedere Salvatore Iunici, che è inquadrato. Ciao Salvatore, e c'è anche Claudio Giraldi, che non vediamo ma che c'è. Eccolo. Ciao Claudio. Allora, Matteo, se vuoi dare il benvenuto ai nostri ospiti, grazie, poi cominciamo. Buonasera a tutti, grazie Anna Maria, grazie a tutte le persone che sono presenti, e soprattutto un'attenzione particolare a chi ci segue da casa, da lontano, su Facebook. Devo dire veramente una cosa che avere qui Matteo Canelletto per la seconda volta per noi è un piacere davvero. È un piacere soprattutto dopo la prima opera che abbiamo letto con massima attenzione, le verità infovibate, ma vedere come ci aveva promesso che non si sarebbe fermato praticamente su quell'opera lì, su quel lavoro già molto pesante, ma vedo che sta andando avanti. e andare a toccare l'Isola Calva, il Goliotto famoso, quando si sente dire da persone che sono state in campi di concentramento tedeschi, che Goliotto che era molto, molto, molto peggio rispetto ai campi di concentramento tedeschi. Mi raccomando, siamo qui, facciamo Matteo un grande bocca in lupo, che l'opera finisca, che sia un qualcosa di importante, che così anche nel mondo delle nostre associazioni, che rimanga davvero storicamente, perché è un'iniziativa veramente, sono tanti anni che non se ne parla del Goliotto, ma riprenderlo in mano questo farà molto bene. Spero che tu trovi gli archivi aperti e collaborazione da tutte le parti per avere più notizie che si possano avere, che riesci a captarle un po' da tutte le parti, da tutte le fonti utili praticamente per poter incrementare e dare più ricchezza al lavoro. Un grazie all'amico di Savona della Liguria, il Walter, per essere con noi, così siamo collegati la Padania con la Liguria. Mi fa piacere anche a te. Ritorno la parola all'Anna Maria, praticamente. Ecco, ho dimenticato di dire che in questa conferenza intervalleremo le parole di Matteo Carneletto a un racconto di Stanic, un nostro grande, proprio incentrato su Goliotto, sarà in dialetto, quindi una prova di traduzione per quelli che non sono come noi, che non parlano il nostro dialetto, ma è sempre molto chiaro, Roberto Stanic è sempre chiaro in quello che scrive, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Io introduco soltanto così, Goliotto, sono parole di Roberto Stanic. Goliotto, come che go senti il nome, me se vignu subito in a mente Nini, mio secondo cugin di parte de mama. Lui però la chiamava, l'isola segreta. A te Matteo. Grazie mille Anna Maria, grazie mille a tutti, è davvero un piacere, anche perché si sono creati dei bei rapporti da quando sono venuto a parlare da voi e con voi la prima volta lo scorso marzo, per presentare il tuo bate, il tuo sito con Pausto. È bello aver iniziato questo percorso insieme, e anzi davvero vi ringrazio non solo per l'aiuto che mi state fornendo per questo reportage, ma appunto per parlare ancora una volta con voi dell'isola segreta, come abbiamo appena sentito, di quest'isola Calva, che è un'isola piccola, sulla mia grande 3 km per 3, quindi è davvero un grande scoglio, una piccola isola che si trova in mezzo all'Adriatico ed è falciata dal vento, ed è praticamente impossibile ogni forma di vita, sono presenti solamente, scusate, non so se sentite i lavori che stanno facendo al giornale. Eh vabbè, non possiamo farci. Hanno iniziato ovviamente, in questo preciso momento, tutto il giorno che non lavorano, hanno deciso alle 17.37 di iniziare a lavorare. È un'isola sulla quale crescono solamente arbusti e poco altro, è davvero il luogo peggiore in cui vivere, ed è proprio guardando quest'isola, l'isola segreta, l'isola Calva, che Tito ebbe appunto l'idea di spedire qui i dissidenti. Dissidenti che, contrariamente a quello che vuole una certa vulgata, erano tutti coloro che osavano contraddire il dogma del comunismo jugoslavo. Ed è questo sostanzialmente il motivo che mi ha spinto a realizzare questo reportage che dovrei appunto, per qua dovrei partire credo la prossima settimana, perché questa è una storia della quale nessuno parla. Di Goli Otox si sa davvero poco, reperire documenti è impossibile, però qui in quest'isola, in quest'isola dove c'è una natura così impervia, dove la vita è possibile, furono mandate più di 30.000 persone, ma i numeri sono davvero contraddittori, davvero difficili a ricostruire come momenti, anche 300 italiani, 300 italiani che erano stati illusi dalle sirene del comunismo jugoslavo e avevano deciso di lasciare la madre patria per provare a costruire un mondo nuovo. Ecco come era quel mondo nuovo si è visto, perché chi non finì sull'isola Calva fu costretto a tornare in Italia. Questo la dice lunga anche su una certa retorica che c'è attorno a Tito. Quindi questo molto brevemente è l'introduzione al lavoro che mi accingo a fare, spiegare che voglio fare questo reportage, quindi perché è una storia che poco... Siamo noi, no. Provo a chiamarlo. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi noi di connessione, mi dispiace, ma purtroppo... No, no, si è entrata proprio al momento opportuno, perché è il momento di leggere. Bene, ieri i primi anni 50. Mi ero un muletto di 10 anni e stavamo ancora a Pola. Nini stava vicino di noi con sua mamma e la ziana. Lui non voleva andare mai fuori, stava sempre in casa e la zia la diceva che gli era malà, ma non la diceva mai che malattia che gli aveva. Nini era gentile con me e gli aveva tanti libri e tanti giornalini che quella volta era difficile trovare in italiano. Tante volte vedevo Nini scrivere su un grande quaderno che diceva che ieri era un romanzo di robe del mar, dei marinai e dei capitani. Una volta... Mi dispiace, non so dove siete arrivati, dove sono arrivata... Anna Maria se... Riproviamo? Riproviamo? No, è di nuovo, di nuovo Claudio. Anna Maria? Ecco. Ok. Va bene. Riproviamo? Riproviamo? Nini stava vicino di noi, con sua mamma e la ziana. Lui non voleva mai andare fuori e stava sempre in casa e la zia la diceva che gli era malà, ma non la diceva mai che malattia che gli aveva. Nini era gentile con me e gli aveva tanti libri e giornalini che quella volta era difficile trovare in italiano. Tante volte vedevo Nini scrivere su di un grande quaderno e gli diceva che era un romanzo di robe dei mar, dei marinai e dei capitani. Una volta mi aveva anche fatto leggere un tocchetto. Il parlava di un brigantin che si chiamava Britannia, salpato alla ricerca dell'isola che non trovava mai. L'isola segreta. A me ste robe mi pareva assai strana e che gli avevo anche dito ma come ti vuole che il capitano trovi sta isola se non sa neanche il nome, se la sei segreta? E lui? Il comandante è Sir Francis Drake, un grande marinaio e un bravissimo capitano e ti vedrà che alla fine lui la troverà. Anna Maria vai pure avanti fino al secondo punto che c'eravano detto che io intanto per tenere viva la... Va bene, se passai gli anni, se passai gli anni, Nini stava sempre in casa. Noi siamo venuti in Italia, mi sono diventa grande e ho perso i contatti con lui. Nel 1995 sono andato a trovarlo. Ziana era morta, lui stava di solo e non se la passava troppo bene. Meno male un'altra cugina si curava un poco di lui. L'ho trovato assai malandato di salute, ma lucido di testa. Che ho fatto allora la domanda che di tempo ne lo si gava dentro. Perché Nini ti sta ancora confinato in casa? I tempi si è cambiati, non si è più di aver paura. La sua risposta mi ha lasciato sconvolto. Mi, Roberto, non ho e non avevo mai paura, ma ti devi capire che mi non sono più vivo. Mi sono un uomo morto, un morto che cammina, là, sull'isola, e mi ha sbregato dentro, e mi ha portato via tutto. Mi si resta solo il corpo, un involucro. La mia anima e il mio spirito si restai là, incadenati sulle pere dell'isola, e non me li darà mai più nessun migrio. Il parlava piano, con voce bassa, senza nessuna emozione. Era come se dopo tanto tempo esvodassi un sacco di roba ormai inutile. Grazie mille, Anna Maria, perché proprio queste ultime righe certificano e testimoniano quello che era Goli Otok quando dice io sono un uomo morto, un morto che cammina, mi hanno portato via tutto, mi è restato solo il corpo, un involucro. Ed era davvero questo l'obiettivo di Goli Otok, togliere all'uomo la sua stessa umanità, renderlo semplicemente una larva, un corpo vuoto. Anzi, Orietta Moscar da Oblak scrive che Goli Otok era una perfetta macchina distruttiva della dignità, della personalità e della stessa essenza umana dei detenuti. Tutti i deportati che hanno scritto le loro memorie su Goli Otok hanno affermato che in quel carcere furono creati dei sistemi di annientamento che toccarono i vertici della perfidia sadica, prendendo la forma di un male assoluto che si identificava con i metodi fascisti ma che non aveva nulla da invidiare ai campi di sterminio nazisti. Ecco, era proprio questo l'obiettivo e si arrivava in barca magari sferzati dal vento e si finiva subito in un tunnel di percorse di violenza e non edita dove non venivi pestato dai carcerieri ma dai tuoi stessi compagni dei quali non ti potevi fidare. Anzi, chi di loro si mostrava eccessivamente tenero veniva a sua volta pestato e messo nell'angolo. Quindi, tutto poi a Goli Otok doveva essere fatto di corsa. Tra l'altro, mentre leggevo queste memorie di appunto chi aveva avuto la sfortuna di finire in questo campo di concentramento mi è venuta in mente una delle immagini più terribili perché più vuote della Divina Commedia. Quando Dante, nel terzo canto dell'inferno, incontra gli ignagli e questi uomini nudi costretti a seguire una bandiera non si possono mai fermare. Ecco, è incredibile come Dante pensava in uno dei luoghi peggiori che è l'inferno abbia poi quasi ispirato diciamo così Goli Otok. quindi è un luogo in cui coloro che avevano avuto la sfortuna di finirci dovevano far tutto di fretta non potevano fermarsi mai perché appunto fermarsi significava poter pensare pensare è una cosa che fanno gli uomini le veste non lo fanno quindi pensare significava mantenere quel barlume quel filo che ci lega alla nostra umanità. Non ci si poteva fidare di nessuno a Goli Otok che il carcere questo centro di educazione ha funzionato così tragicamente bene perché era fondato quasi unicamente sull'autogestione cioè erano le vittime che erano carnici questo è terribile se ci pensiamo perché tutti i campi di concentramento hanno funzionato perché c'era qualcuno che li faceva funzionare qui venivi portato così all'autodistruzione da diventare il carcere di te stesso e anche degli altri quindi questo ti portava ad essere sempre più volento Goli Otok è celebre per la violenza che era una violenza brutale non era la violenza sistematica dei campi di concentramento tedeschi in cui era proprio la violenza più spontanea più cattiva e Silvio Cosette che finì a Goli Otok racconta che per ogni minima infrazione erano pronte le più severe punizioni a questo scopo erano stati studiati ogni sorta di espedienti tra i quali figurava pure la sede anche questo è una pena del contrapasso dantesca ancora una volta perché se sei su un'isola sei attorniato dall'acqua eppure non la puoi bere davvero è incredibile questa violenza scusate se ripeto questo termina ancora una volta se mi ripeto ancora una volta ma è davvero il tratto distintivo di Goli Otok che questa pena del contrapasso che colpisce tutto ma anche coloro che arrivavano che vedevano la fine che venivano allontanati da Goli Otok non erano realmente libri tanti infatti furono andati appunto nelle cave di Babsit in Jugoslavia perché non poteva finirli la loro reeducazione doveva andare avanti quindi questo dimostra anche come il tratto distintivo di tutti i comunismi ma anche in particolare del comunismo Jugoslavo era quello di voler controllare non solo il corpo delle persone ma soprattutto la mente tant'è che tanti confessarono anche cose che in realtà non avevano mai fatte solamente per cercare di trovare un minimo di soddietro questo indica ancora la potenza e la capacità per persuasione terribile che si aveva a Goli Otok quando i racconti sono davvero terribili perché ad esempio cito ancora un'altra persona che finia a Goli Otok Sergio Borne che racconta che fu preso fu caricato sulla nave fu legato ai polsi questa tra l'altro tragica trattura distintivo di tutte le violenze condute sul confine orientale e lui solamente nel viaggio in barca che è sommato un viaggio breve fu talmente pensato che dice che quando arrivavamo lì non ci riconoscevano più tanti volte le membra erano tumefatti dalle bastonate a Goli Otok le condizioni di vita erano le peggiori non solo per l'ambiente stesso ma anche perché si cercò appunto di creare il sistema peggiore per far vivere queste persone ci furono tragicamente anche questa attuale epidemie di tifo di senteria delle peggiori malattie che contribuivano a far morire le persone che arrivavano a Goli Otok la cosa appunto singolare che dicevamo all'inizio che in questo campo di concentramento perché la fune non fu solamente un carcere un campo di reeducazione ma un vero e proprio campo di concentramento non finirono solamente italiani anzi gli italiani furono pochi furono 300 circa e appunto furono traditi dal loro stesso dal loro stesso desiderio di seguire le chimere del comunismo ma i 30.000 che ci finirono erano Jugoslavi questo vale la pena ricordarlo perché come dicevamo all'inizio c'è chi cerca di assolvere continuamente Tito dicendo che le nefandezze che ha compiuto sì sono bravi ma alla fine sono e mi spiace anche ripetere questa boiata sono la giusta reazione ai crimini compiuti dagli italiani non è così cioè non è così e con l'Iotok lo dimostra appunto va la pena ricordare che Tito fece tutto questo non per le nefandezze che i suoi stessi connazionali fecero ma perché il suo obiettivo era quello di avere il controllo totale sullo stato sul corpo e sull'anima delle persone per questo non ammetteva alcun tipo di opposizione infatti io Anna Maria ti chiederei di leggere per favore il blocchetto sì ero giovane un ingenuo idealista credevo nei ideali del comunismo nella fratellanza tra i popoli nell'internazionalismo in un grande paese tutto comunista mi fidavo dei compagni e parlavo in libertà così quando che si è saltata fuori la questione del common form e scontro tra Tito e Stalin mi non arrivavo capire come che poteva essere un comunismo solo jugoslavo in contrasto con quel dei nostri fratelli dell'unione sovietica e anche dell'Italia e nelle nostre riunioni ho detto come la pensavo anche quando ero venuti a ciorne per arrestarmi e quando che gai incominciai a interrogarmi mi pensavo ancora a un sbaglio a un equivoco e ero sicuro di poter dimostrare la mia innocenza ma dopo i primi interrogatori dell'Udba gai incominciai a realizzare che non era così che non era un sbaglio e che il mio destino era stato deciso ecco in queste parole c'è tutto per un giovane un genuo idealista credevo nella fratellanza dei popoli in un grande paese tutto comunista ecco non fu così e in realtà ci vogliono tre anni per capirlo da quando finì la seconda guerra mondiale a quando si consumò lo strappo tra Tito e Stalin ci vogliono solamente tre anni ecco in quei tre anni Tito fece di tutto e fece di tutto soprattutto dopo in sette anni appunto quattromila persone morirono solamente a Goli di Oto quattromila persone è il numero che conosciamo ma come purtroppo sappiamo per quanto riguarda le vicende del confine orientale i numeri vanno molto spesso aumentati e appunto di concentramento era che mancava la fiducia lo racconta si sente poco? no no va bene va bene mancava assolutamente la fiducia lo stesso Borna che abbiamo citato prima raccontava che non ci si poteva fidare di nessuno si era creato un vero e proprio esercito della Torri anzi si racconta che non ci si riusciva neanche a suicidare c'è un tentativo di un suicidio un uomo si mise sul tetto di una delle baracchie presenti a Golioto si buttò giù si sfracellò si ruppe le ossa ma ebbe diciamo così la sfortuna di salvarsi fu guarito e non appena fu guarito fu massacrato nuovamente di Borte questo ancora una volta testimonia la disperazione di quelle persone ecco a Golioto tu venivi portato alla disperazione l'obiettivo era quello tant'è che tutte le operazioni tutte diciamo così le attività lavorative non venivano fatte con i macchinari ma tutto doveva essere fatto a mano questo perché appunto il corpo doveva essere fiaccato le persone Borrome arrivò a pesare 43 kg e per un uomo è praticamente impossibile arrivare a quel peso rimanendo ancora in pinta e appunto ricorda tante immagini che purtroppo abbiamo visto dalla seconda guerra della seconda guerra mondiale dei campi di concentramento ma che ci vengono ancora oggi vietati di vedere quando si tratta dei crimini di titolo io davvero farei a chiedere a Anna Maria di leggerla l'ultimo tratto che è quello più lungo e anche più più completo del testo che abbiamo per poi lasciare lo spazio alle domande e agli interventi allora dopo un mese di presun io mi dà una carta e io mi dà che io lo stavo a condannare a 24 mesi di lavoro rieducativo e io mi mandare a fiume una notte io mi prelevar della cella e io mi portare una cameretta con altri detenuti e io mi legare le mani col filo di ferro drillo la schiena con una camionetta e io mi portare a Bucari e l'ase incomincia e il nostro vero calvario con piade e pugni i nega carica sulla nave sempre con le mani ligate i nega scaranità già nella stiva e là ancora lignate sberle pugni e piade al sbarco il famoso crot stroi se doveva passare in mezzo dei due file dei detenuti che si gava tito partìà e che i te spudava addosso i te impignava dei pugni piade senza nessuna pietà così doveva far per salvarsi e così dopo che dovevo fare anche me e dopo fame sede malattie lavoro pesante a portarsiarsi a scavarbusi per ore e ore sotto il sole sempre con la paura di altre lignade o del boicot una condanna terribile che ti fa diventare l'ultimo dei miserabili nessuno non ti può parlare tutti ti può bastonare anche senza motivo ero sempre più stravolto a sentire ste robe allora un poco più sdramatisarghe godo malda e il romanzo ti hai scritto quella storia del brigattino in Britannia alla ricerca dell'isola segreta nini se diventa ancora più cupo ero malà ridotto 50 chili che avevo febbre e allucinazioni tutte le notti mi sognavo che arrivava in Britannia a Ciorne per portarmi a casa purtroppo alla mattina mi sveglavo e ero ancora nell'inferno di Goliotoc un giorno che portavo Sassi per una nuova costruzione l'ho visto il brigantino proprio in mezzo al mar averlo spiegato verso l'isola e mi veniva finalmente a Ciorne per portarmi via come la decolpola si viera piena di Sassi che portavo con un mio compagno e sono corso verso il mar verso il brigantino ma ero un'annucinazione e me la ciappa e me la dà un sacco di lignade e mi sono costato mesi di boycott non resistevo più a sentire queste robe terribili non sapevo cosa dire o fare così ho inventato una scusa go salutà e sono venuto via Ninis è morto dopo un anno e Migo seppellì la sua storia dentro di me ben in profondità solo a pensare che mi faceva assai male ma nel subconscio la sua figura gli era sempre ben presente e adesso arrivando all'isola segreta davegneva fora con tutta la sua forza arrivati a Goliothok si è difficile pensare al crozostroio a come che sbarcava quella volta la povera gente deportata sotto una tettoia su un local la conoba purzon cantina prigione più in là davanti ad una finta finestra con le sbare per la modica cifra dei cinque cune si può fare una fotografia ricordo del finto carcerato con noi oltre che le autorità e i diplomatici si è due sopravvissuti alla deportazione uno che ha 85 anni ben portati che continua a parlare a spiegare a farsi intervistare il che ha scritto anche un libro l'altro che ha 90 anni il che era stato il presidente dell'associazione dei ex deportati che ha organizzato il viaggio il parla sai meno il distribuisce un opuscolo con informazioni essenziali in tre lingue il dissi che ha superato il disagio e la sofferenza e che ha perdonato i suoi aguzzini mi non so se al suo posto potessi perdonare ma lo ammiro nel giro dell'isola due guide dà le informazioni in inglese e in croato ma questo no pole non deve essere solo un posto dei turisti cammino un po' in trio del gruppo vede i resti di una casa tutto in blocchi di piera bianca costruita dai deportati c'è la casa dove che al primo piano stavo i ufficiari dell'Udba la polizia segreta al pian terreni invece era dove che faceva interrogatori vado dentro se tutto svodo tutto in rovina ma se distingue ancora le camere dove che gli slernici gli investigatori interrogavano i deportati rivedo il povero Nini che cerca di spiegare di scolparse ma si è tutto inutile qua gli slernici del turno che ti interrogava decideva se ti eri immaturo per andare a casa o se ti dovevi diventare tri motoraj o tri motoraj di motor o tri motor in gergo a fare ancora due o tre turni in quell'inferno arrivo davanti una torre fatta di pierre ben squadrade se il serbatoio di acqua piovana fatto dai detenuti mi immagino Nini che porta una siriera piena di pierre con il suo compagno quando che il galli lusione di vedere il brigantino britannia che lo viencior per portarlo a casa giù in basso in riva al mar in fondo una valetta di un splendido color blu se quel che era il secondo campo di detenzione costruido tutto dei detenuti un sentier se rampiga zigzag su del mar verso il campo vedo quei poveretti appena sbarcai che i cori in mezzo a due file dei leci detenuti che siga tu sei Tito mi ti secunemo compagno Tito te giuremo fedeltà e che per ridimerse i bastona senza pietà i poveri nove arrivai più avanti se la preson per i irriducibile confinati in cela e poteva ciappararia solo per un'ora al giorno e più avanti ancora se la Petro varupa e il buso de Pietro dove che in un buso diversi metri sotto il livello del terreno gli era sistemà un frantoio mammut lai detenuti più difficili era destinati a lavorare d'estate in un calor terribile senza poter vedere niente in giro foracché un muro dei sassi per fare il giro dell'isola che avemo messo più di due ore con un caldo tremendo anche se solo in maggio figuremo se cos che doveva essere a trasportare campiere per dieci dodici ore al giorno in agosto al ritorno se è quasi sera il mar è calmo e il cese è un bel color blu grigie le rocce nude delle isole di lontananza ai monti del Velebit dove che Narsi labora sento una grande inquietudine dentro di me penso che questo è un posto bellissimo e al testo tempo terribile un paradiso per la natura e un inferno per i uomini penso a Nini e alle sofferenze di tutti quei che si sta di qua e per cosa? per un ideal che oggi non ha più nessun valore penso mi commuovo piango dentro di me trovo però anche conforto perché questa non si è più la segreta perché spero che il sacrificio di tante persone servi per fare in modo che crimini come questi non si ripeti mai più alla fine il sogno dei Nini segare a Lisago il brigantino Britannia è riuscito ad approdare sull'isola segreta il comandante Sir Francis Drake ha rotto le catene che legavano alla luta roccia l'anima e lo spirito di Nini e li riporta finalmente a casa riposo in pace Nini e questo è il racconto di Roberto Stanic scusate stavo parlando senza l'audio io rileggendo queste parole pensavo anche alla difficoltà di fare questo reportage perché non solo per quello che viene raccontato quello che è stato vissuto eccetera ma soprattutto la chiusa quando dice tutto questo è stato fatto per un'ideologia che ormai non c'è più che è stata portata via dal vento tutto questo è stato fatto su un'isola che allo stesso tempo che è diventato un paradiso perduto un'isola così bella dal punto di vista appunto di quello che c'è ma che è diventato un inferno terribile per gli uomini allo stesso tempo c'è il motto che è quello di dire queste cose non devono più accadere ecco per fare in modo che queste cose si sperano non accadano più bisogna continuare a raccontarle quindi è quello che farò che faremo in parole e fotografia ed è quello che poi mi auguro di poter raccontare ancora tra qualche settimana o a settembre dopo la pausa e stia per raccontarvi quello che è stato tra l'altro Anna Maria lo sa perché in questi giorni ci sentiamo quasi quotidianamente il viaggio sarà particolare perché non sarà direttamente Milano diciamo Lukovo dove Goliotok ma avrò che sono davvero emozionato la fortuna di percorrere tutta l'istra quindi oltre a tappa obbligata d'orsera sono Anna Maria a togliere il saluto documenteremo anche anche quello quindi io cercherò di tenervi aggiornati in diretta con immagini foto video del viaggio io vi ringrazio tanto so che c'è un intervento di Walter darei la parola Anna Maria se tu sei d'accordo sì sì senz'altro Walter allora se vuoi intervenire Walter andiamo ora meglio sì adesso si sente dicevo brevemente il racconto di uno che appunto che c'è stato un po' in famiglia l'abbiamo sempre fatto ho portato i ragazzi sui luoghi dove riferiti ai libri che leggevamo noi in casa sull'altopiano di Asiago dove c'era Lussu ha raccontato ha raccontato della grande guerra al punto che poi oppure in altri luoghi della resistenza al punto che poi i miei figli volevano incontrare queste persone mio figlio è andato a cercarsi Rigoni Sterne è andato a cercarsi Mutore Velli allora a un certo punto ecco nel 2016 diciamo ho fatto il Grand Tour nelle regioni diciamo dell'Istria proprio volendo volendo andare a toccare tutti i luoghi Basovizza Monrupino e ci siamo proposti ecco Bianco tutto bene? sentite? sì sì ecco allora troviamo andiamo su sulla Arbe e corrompiamo un 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 ometto che aveva un motoscafo che non voleva nessuno voleva portarci perché perché c'era lo Yugo c'era un vento sfavorevole alla fine lo convinciamo ci mette i giubbetti un po' scassati e ci porta lì ecco quando siamo arrivati non c'era quell'organizzazione turistica per cui ti fanno vedere il video e c'è un po' ecco di organizzazione e tuttavia ecco questo voglio dirlo perché poi alla fine ci ritorno questa giustamente opportunamente Anna Maria ha letto ti fanno fare la foto da da capito ecco in sostanza c'è un un grande pannello un cartoon dove ci sono questi questi disegnati appunto comics ci sono i corpi di galeotti con le strisce no e tu ci inserisci il volto tuo e ti fanno sta foto ecco con quello che è successo perché avevo letto avevo letto su questa tutte queste cose avevo letto il libro di panza eccetera ecco ho detto ma ecco il non è un bel servizio questo qua che che la Croazia sta facendo ecco non non rende giustizia proseguendo beh siamo saliti lì mi immaginavo ecco calarsi mi immaginavo il quando gli gridavano inforbilo inforbilo cioè sei un cominformista e era un altrattore una bella giornata anche climaticamente era era anche favorevole ecco non c'era il caldo torido non c'era il il freddo che che spazzava che spazzava il la colina nuda e tuttavia si è riusciti a fare e allora le riflessioni voglio portarle qui io sono stato portato i ragazzi ai campi di concentramento nazisti ecco l'importanza dei luoghi della memoria cioè di affiancare di corroborare le letture le testimonianze il ricordo con i luoghi con le visite i pellegrinaggi fra questi campi per esempio in austria hanno acquist la comunità ebraica ha acquistato a gusen che ormai era stato lottizzato c'era una serie di condomini eppure ha acquistato un pezzettino perché lì c'era il forno crematorio ecco anche così poco anche così poco serviva ecco per cui si arrivava attraverso un normale quartiere residenziale però poi c'era questo luogo questo luogo sacro il forno crematorio del campo di gusen ecco allora questo questi nostri sopralluoghi queste nostre visite io temo che ecco che lasciando andare la cosa si degradi non nel senso fisico solo perché magari sul piano come dire del restauro lo recuperano anche ma se lo recuperano per raccontare una storia diversa una storia che non che solo noi poi una certa parte della storia solo noi possiamo possiamo raccontare ecco allora e questo è un appello che faccio anche al dottor Carnieletto noi possiamo dobbiamo veramente metterci a ragionare se non sia il caso di valorizzarlo per esempio prendendo in considerazione una con una trattativa privata l'acquisto di un pezzettino anche solo un pezzettino ecco dove poter poter continuare a raccontare queste cose ad avere il diritto la dignità di raccontarle come sono andate perché attenzione il paradosso è solo apparente è apparente questo paradosso che a NVGD diciamo che porta avanti la memoria dei Giuliano Dalmati di coloro che il comunismo lo subirono anche quello cominformista parla di Goliottoc così come quando abbiamo invitato la giornalista Giulia Bellaspiga a Savona ci parlò di Goliottoc ecco il paradosso è solo apparente perché questo è il passaggio importante se queste cose la gente vedrà se queste cose il regime Jugoslavo quelle regime è riuscito a farle sui fratelli di classe allora forse è vero ciò che riferiscono i Giuliano Dalmati di aver patito ecco quindi Goliottoc sbriciola la favola foibe perché causate dal fascismo foibe perché come reazione a delle colpe subite da quelli che c'erano prima Goliottoc è importante non a caso il dottor Carnia ha letto che prima aveva lavorato sulle foibe ora sente il bisogno di lavorare su Goliottoc salvare un angolino ecco così come magazzino 18 padriciano l'abisso plutone Basovizza ecco vedere di lavorare in prospettiva poi magari ci saranno difficoltà economiche si potrà arrivare tra molti anni però se noi acquisiamo la coscienza dell'importanza di fare questa cosa abbiamo già fatto un passo importante era questo che volevo dire vi ringrazio vi ringrazio per le iniziative innanzitutto ringrazio il dottor Carnialetto che vuole lavorare su questo io la ringrazio molto per il il suo intervento e anche per lo spunto cioè lo spunto sulla memoria che è importante da conservare da importante conservarla integra senza scherzarci no senza fare diciamo senza creare spazi dove per far foto francamente è ridicole che offendono la memoria non solo di chi è morto ma anche di posso fare una riflessione dopo sì 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 ma anche adesso volevo solo dire volevo solo dire che di non di non dimenticare il contesto storico in cui tutto questo è avvenuto che noi stiamo parlando di tragedie umane riconducendolo all'individuo che ha sofferto dimenticando che questa è la conseguenza di una di una lotta fratricida tra due comunisti tra due tra due ideologie assassine e non dimenticando soprattutto il ruolo del Partito Comunista Italiano in tutta questa vicenda perché tutto quello che è successo non è non è successo non è stato calato dall'alto è successo perché sono venuti determinati fatti determinati fatti tra partiti fratelli cioè tra fratelli coccetti che si sono ammazzati e i racconti che ha letto l'Anna Maria non sono fine a se stesso di una tragedia personale avuta da qualcuno ma è una tragedia personale sua e di molti altri tantissimi altri in un contesto storico che non va molto ben preciso e che non va né dimenticato soprattutto non sottovalutato andrebbe molto esaltato infatti queste sono diciamo le piccole storie nella grande storia le storie degli uomini sono invitati ormai molti sono morti molti sono morti perciò le testimonianze vere purtroppo non ci sono più conosciuto persone che sono usciti da da Pagoglio uno era cugino di mia mamma è vissuto lì è rimasto lì perché così aveva questa idea mi ricordo io non conoscevo quelli otto non conoscevo niente sono all'olimpia di in Finlandia e sta giocando URSS contro la Yugoslavia questo signore ancora ti fava URSS e poi non non ha mai detto una parola al suo figlio che erano amicissimi vicini di casa e roba genere gli chiedevo ma dove fanno non ho mai raccontato niente mai niente non ho mai raccontato un altro invece che ho conosciuto a Rovigno viveva a Firenze dice c'era una riunione del Partito Comunista e io mi sono permesso soltanto di alzare il braccio per dire ma come mai perché questo cambiamento non è che ha inveito contro questo no 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 soltanto questa piccola riflessione alla sera prelevato e portato via quando è uscito quando è uscito il giorno stesso a notte è preso con degli amici una barca e l'ha portato a Trieste viveva non so se penso che non sia più vivo anche perché già era anziano viveva a Firenze lì ancora votava Partito Comunista no e dice ma come mai come mai io ho questa idea e mi meravigliavo poi dice qualche cosa mi raccontava ma molto molto allo lontana così no dice eravamo gli uniti quando si passava tutti quanti quello che leggeva l'Anna Maria prima sberle calci pugni perché no no si sa perché se non li davi tu naturalmente quando passavi tanto li ricevi anche tu dopo oppure parlavo soltanto italiano sapevano anche una parola di croato si rivolgevano ai croato no tu lo sai croato soltanto che non vuoi a le botte andava andava in in isolamento e lì era sotto il sole oppure gli facevano bere scusate la pipì gli facevano addosso tutto cioè ecco quello si diceva gli toglievano l'anima no tutto quanto rimanessa soltanto ecco questa riflessione così mi viene agita in a mente grazie Salvatore peraltro scusa Matteo peraltro quando poi li hanno lasciati ritornare in patria che vuol dire in Italia gli italiani che hanno subito goliotoc hanno dovuto promettere di non dire assolutamente nulla assolutamente nulla quindi loro per decenni sono dovuti starcitti non potevano parlare assolutamente anche chi aveva prima un ruolo abbastanza importante nel partito è stato assolutamente allontanato quindi tutti quelli tutti gli italiani fossero i monfalconesi fossero altri che sono andati là credendoci poi quando hanno potuto ritornare hanno permesso loro di ritornare perché non era così automatica la cosa li hanno fatti ritornare promettendo loro hanno dovuto giurare che non avrebbero parlato e hanno potuto parlare dopo il 1989 ecco questa è la realtà infatti anche rispetto a quello che si diceva prima di chi nonostante queste violenze incredibili non ha cambiato idea è tragico e terribile nel senso che dimostra come alla fine questa ideologia che davvero come tutte le ideologie ma in particolare quella comunista è totalizzante quindi anche se la realtà è l'opposto di quello che vedi tocchi sperimenti tu continui un diritto per la tua strada quindi se ti dicono che quelle botte sono giuste tu continui a dire che quelle botte sono giuste anche se le hai prese tu ed è rientra in un lavaggio del cervello pazzesco cioè è davvero terribile anzi grazie anche per 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 quell'intervento la testimonianza di Borme che è di una drammaticità di un'intensità veramente spaventosa lui è completamente distrutto e tutti quelli che hanno vissuto Goliath non sono mai riusciti a recuperare assolutamente mai si sono portati dietro sempre quel dolore quella perdita dell'anima quella perdita di spirito si sono persi appunto erano uomini erano uomini involucri non non ha solito la maggioranza delle persone non ha saputo reagire purtroppo il dramma è stato anche quello anche dopo è durato tutta la vita altre domande Matteo hai altre cose da dire vi ascolto con massima attenzione davvero speriamo che il reportage ripeto ci possa aprire magari qualche finestra nuova di quello che abbiamo letto e sentito mi sembra che comunque lì chi ha aperto mi sembra forse un rapporto che ha cominciato poi a liberare qualche persona è stato durante il periodo del segretario Longo mi sembra del PC italiano che era andato da Titto per cui era riuscito in qualche maniera a sbloccare con la promessa di non parlare davvero con nessuno di quello che succedeva su quell'isola Calva su quel Goliotto sentire anche il racconto di Roberto di Roberto Stanec rendi conto che davvero la cattiveria umana la violenza umana la violenza morale fisica è senza limiti cioè davvero è stimolare a tutti i costi picchiare e a sua volta tu devi picchiare gli altri se vuoi sopravvivere è una roba che è inimmaginabile davvero rimango sbalordito di situazioni simili e questo qui come diceva Matteo prima l'importante è che se ne scrive che se ne parli perché solamente parlando forse si evita un domani i ripetersi di questi dranni che davvero poi una zona tutta l'ex Jugosnavia particolare noi abbiamo visto anche negli anni 90 ragazzi quello che succedeva lì come succedeva nei tempi che furono cioè spero davvero che se ne parli tanto che anche in tutti questi paesi non si possa più verificare queste violenze perché sono drammi immensi non degni di essere civili va bene chiedo scusa basta comunque questa iniziativa è lodevole davvero di andare avanti bocca al lupo e buon lavoro davvero Matteo grazie grazie allora allora se c'è ancora qualcuno che vuol dire qualcosa altrimenti altrimenti noi promettiamo e assicuriamo Matteo che appena appena è pronto noi lo ospiteremo di nuovo perché ci parli perché ci spieghi perché ci dica a che punto è arrivato e ci manderà anche ci ha assicurato che ci manderà i suoi video durante il viaggio per cui potremmo oltre all'Orsera naturalmente potremmo seguirlo durante il suo viaggio Matteo guarda che Matteo guarda che Matteo Gerghetta è di Fontane pochi chilometri prima di Orsera quindi mi raccomando prendi nota due chilometri prendi nota due chilometri prima di Orsera esatto mi rivolgo adesso a Matteo Gerghetta a Claudio Giraldi e a Salvatore Iulici che sono qua e Walter se vorrai essere anche tu presente quando ci sarà di nuovo Matteo con noi adesso vediamo Matteo appena sei pronto tu ci avverti magari potremmo farlo eventualmente se ti serve prima prima di settembre potremmo fare un infrasettimanale eventualmente un qualcosa adesso vedi tu tenici informato e noi ti seguiamo con ansia con compassione guarda guarda ha fatto i compiti già grazie Matteo Matteo niente ti raccomandiamo ti raccomandiamo noi ti seguiamo con con affetto ecco con affetto partecipazione ansia tutto per noi ecco come sempre stai facendo un lavoro molto importante e ti ringraziamo te ne siamo veramente grati grazie grazie mille a voi grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie buon viaggio Matteo ciao 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 a tutti grazie Walter a voi grazie ciao a presto ciao ciao a tutti Matteo grazie grazie di tutto bene andiamo ciao ciao a me Walter di nuovo grazie a tutti 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 Grazie a tutti.